Salve a tutti, in questo video vediamo come trovare tutti i Waddle Dee nascosti nel livello Canyon Chiar di Luna su Kirby e la Terra Perduta. Il primo Waddle Dee lo troviamo nella parte del livello oscuro. Dobbiamo andare dietro i tubi, qui vedete c'è un passaggio segreto, e quindi ci basta seguirlo fino alla fine. Concentriamo la luce sulla pila, saliamo le scale. E andiamo a prendere il primo Waddle Dee. Il secondo Waddle Dee lo troviamo poco dopo, prima della porta, andiamo a sinistra, usiamo la luce qui, torniamo indietro ed apparirà proprio sul percorso. Terzo Waddle Dee si trova poco dopo e sta letteralmente sulla strada. È impossibile non vederlo, eccolo qui. Quarto Waddle Dee bisogna raggiungere il passaggio segreto, quassù. Prendiamo il carrello elevatore, interagiamo con lo switch e poi ci andiamo a gettare sulla porta. Una volta dentro prendiamo il carrello elevatore e dobbiamo solo arrivare fino alla fine. Prepariamoci perché alla fine dobbiamo saltare velocemente, prima che il pavimento crolli. Ecco qua. Quindi su, espelli velocemente e via. Ora qui bisogna arrivare tutta a sinistra e prendere Waddle Dee senza mai prendere uno di questi poteri, poiché ci faranno cadere. Ed ecco fatto, ci manca l'ultimo. L'ultimo lo troviamo qui, mentre voliamo. Dobbiamo andare a destra, dove c'è il cerchio rosso. E troveremo l'ultimo Waddle Dee. Perfetto.